E' il derby Y-Sport, Hockey Club Valdagno, Hockey Trissino, una sfida anche tra tifoserie e la... Ma dell'inizio della gara ci sarà un minuto di silenzio, il ricordo di Simone Pantani. Andiamo in diretta, vediamo anche come risponde Valdagno. Attende, retroporta, su di lui c'è Borregan, García scende di rovescio, raso terra la parata, poi c'è un contatto tra García e di cui Giovanni, c'è da terra il 7 Valdagnese, chiamati i paramedici... Borregan gioca senza il peso delle aspettative che invece deve avere Trissino, va Borregan, prova lui, la mette lì, ha una mano, ma che numero! All'ex Borregan! Gol bellissimo di Borregan, fantastico! Difende palla e con una mano va nell'angolo più lontano, gol straordinario! Il fratello Giulio, il blocco entra, ancora Giulio Piccoli, cercato Gioele! Pallini contro Giuliani, attenzione, diventa buona per Crocco, che ancora una volta non riesce nel tappin vincente. Gran velocità di questo giocatore, la botta di García, la bomba su di lui è il pareggio! Il pareggio di Gioelone Piccoli! Gioele Piccoli, il canterano del Trissino, pareggia il... Valdagnese che può ricominciare la trama offensiva con il Ciuppe, c'è il raddoppio, il Ciuppe va via! Va via il Ciuppe! Mamma cost to cost del Ciuppe Giuliani! Che gol! Cost to cost fa tutto lui! In spaccata, allora, contropiede per il Trissino con Gavioli, rovescio! E con Gavioli! Davide, Gavioli, il pari del Trissino con una saetta! Ancora una volta! E per Giuliani, centrale, a buona guardia, Sgaria! Attenzione qui, altrettanto bravo qui, Bobo, a te però, occhio Gavioli! La botta di Gavioli! E qui ha qualcosa da recriminare, c'è il gol di Gavioli, doppietta per lui! Sì, errore in... Ce ne sono quelli qua, Borregan e Ebb, e poi anche i due di esperienza che sono Borregan... Borregan... L'alza e schiaccia di Aleix Borregan! L'alza e schiaccia di Aleix Borregan, lo spagnolo per il Valdagno! Il pareggio della formazione di Cato, fissato sul 3-3 in questo derby tra Valdagno e... Blu! C'è un cartellino blu ai danni di Ray Garcia! Stava andando via in mezzo a due Motaran, l'ha fermato in modo irregolare! Fischia il Chelsea, la finta di Borregan! Con lui! Non va! Ora Vega deve lottare sull'angolo! Malagoli, attenzione! Contatto Malagoli-Garcia, cartellino blu! A Manu Garcia, a 10 dal termine! E Giulio Cocco, il 7-ex Porto, può partire! Cocco, finta! Giulio! Cocco non trova l'alza e schiaccia! Errore, Violi! In questo numero 71, Trissinese! Da Violi, Mendezz! Mette lì! L'inserimento perfetto, lo spostamento giusto da vera punta, Jordi Mendezz! Il Trissone avanti a 6-33, ancora! Il giuolo! Giup e Giuliani! E il Giup! Il Giup e Giuliani! Cosa si inventa? Cosa si inventa il Giup! Incredibile! 4-4 qui a Valdagno! Pallina mandata in avanti! E allora, finisce qui! Allora, Motaran! Ha avuto l'opportunità! Anche l'opportunità alla fine! Incredibile derby! Anche l'opportunità alla fine!